Io finivo il mio lavoro alle 5, quindi mi buttavo dentro questi negozi, cercavo di fare amicizie, capire un attimo l'ambiente e iniziano a raccontarmi un po' di questo mondo, c'è Jordan, c'è Adidas, io non sapevo niente quindi iniziano a farmi un po' di cultura, fino a quando anche loro si sono un po' rotti le pali dicono ma tu cos'è che fai nella vita? Eh io faccio il crezzolaio, ah ok, se ti do un paio di scarpe mi le sistemi mi danno un paio di 97, le pulisco, gli ripitturo la suola un po' bene, gratis mi fa, oh ma sei bravo, lo sai, non c'è nessuno in Italia che le ha fatte così bene come te e intanto loro mi sponsorizzavano con altri, quindi ho iniziato a fare le scarpe dei ragazzi dentro e tutte le volte mi dicevano sei veramente bravo, arrivo a un ragazzo, mi dà un paio di Easy 750 che costavano 2-3 mila euro, io le porto, mi fa, zio ma tu hai idea di cosa mi hai fatto? Ho fatto un lavoro semplicissimo, buttalo sui gruppi e vedrai cosa succederà metto il primo e dopo, richieste d'amicizie, messaggi